Comandi liberi India 7087 da UOS Radio per Prova Radio Sì, 5 su 5, avanti Ok, allora India 7087, pronti al decollo Un secondo, vado Chiuso, sigillato, chiuso, chiuso, messo via Un più due, India 7087 Puoi ripetere, scusa? Occhio 2 Non capisco, occhio 2, cosa vuol dire? Occhio 2 Vabbè, allora io decollo Allora, ho decollato l'87, vado a sud per qualche minuto, poi rientro Allora, i framstel sono su, siamo a 500 piedi di quota, oggi sabato Possiamo salire fino a 1000 Facciamo il giro largo verso sinistra Siamo a 1000 piedi, siamo in salita Ecco, adesso stabilizziamo Allora, possiamo iniziare una leggera virata a sinistra Per metterci con il nostro campo di fronte Vedremo cosa fanno gli altri due ragazzi Il campo è qua giù Faremo un passaggio cielo-campo, la procedura poi per l'atteraggio Possiamo cominciare a scendere A US e a tutte le stazioni, da India 7087 Mille piedi, fra un minuto, fra un primo cielo-campo Per un sottovento successivo, pista 3-5 Salvatore, sono appena decollato, sono Walter Walter, non ti vedo, a dire la verità Ok, allora, siccome non ti vedo faccio un 180 qui in est del campo E poi mi rifaccio la manovra, ok? Comunque mi porto subito dagli occhi Ma tranquillo, non ti vedo Di fatto ti vedo io in alto, secondo me Ok, comunque faccio un 180, sono a 1200 piedi Scusa, faccio un 360 E dopo riprendo la procedura per l'atteraggio Per informazione, guarda che si balla parecchio sopra Cividale Ok Ok, io ricevo tutto Allora, a tutte le stazioni, always radio, da India 7087 Fra 30 secondi cielo-campo Per un successivo sottovento, pista 3-5 Sono a 900 piedi Da est Continui a essere non visibile per me, Walter Non c'è problema, io procedo poi all'atteraggio Ecco, ho calcato il bottone dell'invisibile Per quello Non confonderlo con l'autodistruzione No, quello è in alto Indira 7087, in sottovento per la pista 3-5, 800 piedi Indira 7087, da Always Radio Si segnala l'attività modellistica nei pressi della manica venta Ok, allora farò attenzione, grazie Always Radio, a tutte le stazioni, da India 7087 Viro base per la pista 3-5 Cambio E in finale l'India 7087 per la pista 3-5 E in finale l'india 7087 per la pista 3-5 Via Terra, l'india 7087 Via Terra, l'india 7087